ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video buon san valentino questo è lo speciale san valentino c'è un mega cuoricione rosso che vedete tutto macchiato ma adesso andremo a sapere a vedere perché tutti questi bei colori perché ho voluto utilizzare per questo san valentino questi colori che sono praticamente quelli alcolink metallizzati ok quelli a cui non serve nemmeno il bianco io avevo già sei colori questi altri però qui ce ne erano 12 per cui ho preso tutta la confezione e vabbè per cui questo lo lasciamo qui e ci sono dei colori che si vedono in trasparenza tipo questi rossi tipo questo dovrebbe essere il caffè tipo questo un argento quest'oro mentre ci sono questi tre che non mi sembra che siano uguali non mi ricordo che invece hanno una coprenza spettacolare per cui io devo andare a vedere questi li lascio per ultimi li lascio per ultimi anzi no al cuoricione per ultimo vai san valentino al cuoricione lo lasciamo per ultimo ho voluto fare per quanto riguarda san valentino qui c'è una pozione d'amore qui c'è una farfallina queste sono tutte fatine ho voluto ricreare un pochino anche l'amore per la natura perché ce ne stiamo dimenticando che noi non siamo noi padroni della natura è la natura che è padrone nostro ci dà da mangiare ci dà anche le medicine vengono tutte dalla natura che non se l'ha inventate l'uomo sì la penicillina cos'è la penicillina sapete voi da dove viene la penicillina viene dalla muffa lo dico subito non sono una chimica almeno queste piccole cose lo so ed io mi curo con le piante possibilmente ovviamente ci sono delle patologie che esigono delle medicine ma il mal di testa io per il mal di testa utilizzo digitopressione metto un fazzoletto non lo so mi faccio dei massaggi cerco di non utilizzare le medicine ragazzi le medicine fanno spesso e volentieri fanno più male che bene spesso e volentieri per cui se si possono evitare e la maggior parte delle volte sono solo panacee non curano cioè ti curano il dolore quando tu hai un dolore è il tuo fisico che ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va se a me mi si va via la voce è il mio fisico che mi sta dicendo che c'è qualcosa che non va ho urlato troppo ho preso freddo non lo so quello che è successo ma mi si è andata via la voce ciao piano piano tornerà non lo so forse l'ho lasciata a Verona perché l'ho persa su a Verona è lunga la strada da Verona fino a qua è lunga va bene allora iniziamo non perdiamoci in chiacchiere iniziamo questo san valentino io amo la natura amo le fate amo le farfalle sono bellissime ci sta bene con la dolcezza fra virgolette la pozzoncina d'amore e il cuoricione diamo il colpo di grazia alla fine andiamo con la fatina una delle tante fatine questi sono tutti stampi di gea sembra sì li viola sono gli stampi di gea ok è venuta tutta chiazze ovviamente e queste saranno da colorare colorare che ancora non so di che colore fare perché in base al colore devo decidere come colorarle bene e uno e tu facciamo la conta andiamo con il pendolo io una volta avevo lo stampo per fare il pendolo dove vai dove vai la prossima oh no no il crisetto si è attivato eh adesso andiamo con il pendolo devo ritrovare lo stampo facciamo pendoli a go go ma ti stacchi tu che non ti stacchi che ti sei incastrato dentro eccolo anche questo adesso devo trovare il verso eccolo questo è il verso cioè vedete che proprio effetto petredisce solamente che c'è il disegno vedete c'è la fatina dentro la luna e se io copro la fatina e la luna con esempio eh con il nero a me qui mi rimane quel cerchio che sembra proprio effetto luna ma fantastico ma fantastico allora sì dentro c'è l'effetto petredisce ma forse ci ho messo un pochino troppo colore se vede poco fantastico sì 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 andiamo 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 coffee il sostituto del pendolo sono le mie dita andiamo con l'altra fatina eccola qui ha fatto un po' di bollicine però è da lucidare per cui perché ci dovrò andare a mettere il colore però qui di petredisce è venuto poco e niente perché il colore è sceso tutto sul fondo ce l'ho messo troppo io per coprire tutti i bordi ci ho messo troppo colore chi è che mi aveva detto che io di colore ce ne metto sempre troppo poco ciao sorella bacione stavolta ce l'ho messo troppo qui ho fatto un bel po' di bollicine sulla parte lucida è pieno di bollicine e non è sullo stampo vi dico che non è sullo stampo lo stampo è lucidissimo per cui vabbè a parte questo sarà da colorare per cui sarà anche da lucidare sperando che copra le bollicine vediamo come vengono da finite va vai a caso ho lasciato tutti quelli rossi quelli dorati va bene va bene altra fatina wow idem è venuto tutto 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 argento perché io se vado a colorare questi particolari rimane solo la chiazza argento va bene va bene ok adesso devo solo decidere i colori ok prendiamo una di questa questo non è la fatina questo mi sa che è un fiorellino questi due qui c'è anche la fatina non lo so uno dei due c'è sia i fiori che la fatina ah no questi sono i fiorellini oh questo è bellissimo wow questo è proprio dove siete eccovi questo è proprio petri dish anche perché qui le parti opache quelle che verranno colorate è soltanto il contorno dei fiori per cui il fondo si potrebbe vedere beh questo adesso lo devo studiare ci devo studiare lo devo vedere sì c'è una differenza c'è una differenza questo si vede sì sì ok 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 la fatina quello è il fiorellino andiamo di fatina andiamo di fatina eccola questa è tutta da colorare peccato peccato perché è inutile che qui ci si fa il petri dish anche se qui le ali verrebbero come dire un po' macchiate per cui l'effetto potrebbe essere bello io me lo sto immaginando già con il colore sopra perché questa la parte opaca verrà tutta colorata però le ali così macchiate ci potrebbe stare bene ok vedere la farfallina farfallina vieni a me che carina wow si la vedete tutta chiazza ma poi me la sto immaginando anche con il colore sopra però spesso e volentieri immaginare non è come l'essere per cui lo dobbiamo vedere da finito ok eccola stupenda stupenda poi vedete tutta una chiazza che c'è sotto ma sopra c'è il disegno che non essendo tutto cioè essendo solo il contorno del disegno opaco il disegno che è sotto rimane bene 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 io questa adesso le vado subito a colorare ve le vorrei se posso ve le vorrei anche voler far vedere finite se posso e adesso devo vedere se riesco la pozioncina d'amore che ha voluto fare comunque rossa wow questa anche questa è da vedere finita si anche questa è da vedere finita infine coricione questo semplice liscio non ci ho fatto niente ma voglio vedere le chiazze che sono venute fuori voglio vedere le chiazze che sono venute sotto wow wow allora qui è ruvido perché io ho provato a pulire lo stampo ma mi ha fatto la macchia per cui questo sarà da lucidare ma non è un problema ma così a chiazze mi piace perché io poi qui sotto io il doming siccome non l'ho fatto i pieni 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 ci ho lasciato un po' di bordino il doming ce lo potrei anche andare a fare colorato sì è il criceto che sta girando cioè gira la ruota e compra la vocale specialmente adesso che non c'ho la voce va bene criceto va bene sì sì ti ascolto ok si può fare va bene ok vado a innanzitutto soffiarmi il naso perché non mi sembra il caso di soffiarmi il naso in diretta diretta vabbè e no vado vado a colorare queste e torno subito eccole quasi terminate ok questo gli devo soltanto fare il doming dietro questa l'ho fatta nera ecco e si vede poco e niente infatti come avevo dedotto perché comunque il la parte opaca è più è più evidente rispetto a cioè è più è maggiore rispetto alla parte lucida qui mi ha fatto un po' di bollicine ci ho ripassato prima con questo non si vedeva poi ci ho passato con questo devo provare a lucidarlo devo provare a lucidarlo però l'effetto della luna dentro la luna ci sta ci sta per cui va bene poi poi questa è venuta benissimo questa è stupenda questa è stupenda è bellissima l'adoro poi la farfallina l'ho fatta con l'argento no l'ho fatta sempre con bianco però idem mi ha fatto sempre un po' di bollicine per cui ci devo rifare qualche altra passata perché si vede poco oppure la lascio qui cioè dalla videocamera fa più contrasto invece dal vivo si vede poco magari ci metto quest'altro bianco qui poi questa l'ho fatta sul dorato ma con il dorato sotto si vede poche niente sono saltando non l'ho nemmeno pulita bene questa ma l'ho pulita non l'ho nemmeno pulita bene perché mi lascia pelucchi le gambine infatti non l'avevo pulita questa mi sembrava strano ok più che altro qui sono i bordi delicatamente delicatamente perché queste qui lascia i pelucchi devo prendere pezzettini di stoffa perché tanto questi sono colori che fanno via bene per cui con i lavaggi si possono anche lavare devo procurare piuttosto che le salviette umidificate dei pezzettini di stoffa che qua a casa i pezzetti di stoffa non mancano mai ma mi devo ritrovare quegli adatti qui serve il cotone ok e ok ecco sì già è meglio nettamente meglio nettamente meglio sì poi questa molto probabilmente devo ripassare perché si vede pochissimo dalla videocamera si vede di più dal vivo si vede poco e niente ah va bene è un bel contrasto sì sì lì devo aumentare il bianco qui perlomeno dal vivo però è stupenda mi piace il contrasto mi piace questa qui idem ma le ho pulite sono stata mezz'ora qua a pulire mi sono dimenticata queste dorate va bene bene faccio con voi non è un problema ok ok vedete lascia i pelucchi ok forse qui ci andava un colore un pochino più in contrasto ma va bene eccola anche questa la devo ripassare la devo ripassare perché questo colore non è molto coprente a quanto pare ma ok infine questa che non si vede niente infatti questa l'ho pulita ci sono i pelucchi non si vede niente perché grigio su grigio non si vede niente per cui questa la devo ripassare questa nera o dove siete ecco questa nera non so non so non so perché il disegno si vede poco forse è meglio se la faccio con il bianco perché questa la devo rifare sicuramente e niente ragazzi ragazze il video finisce qui guarda che bellini da lontano da lontano sono bellini da vicino qualcosina in meno no vabbè questa questa l'ampolla è stupenda stupenda appunto basta bene ragazzi e ragazze la mia voce è andata ci vediamo alla prossima mi raccomando pollice in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete commentate e create un giorno ve li farò vedere anche tutti finiti un giorno non so quando ma un giorno perché mi piace creare ma poi li piglio e lancio lì quando li finisco io tutte le creazioni di tre anni di canale non lo so non lo so ciao a tutti ragazzi e ragazze e buon San Valentino ciao ciao